Forse non sapete che il 4 dicembre si voterà anche sull'ambiente, il governo vuole le mani libere per avere più cemento. Secondo voi l'Italia ha troppo cemento o ne ha troppo poco? Dobbiamo ancora costruire? Dobbiamo ancora sfigurare le coste, sfigurare le campagne per arricchire i signori del cemento? Io credo di no ed è per questo che dobbiamo votare no. Grazie a tutti!